Un messaggio forte che ho voluto lanciare, se ci crediamo e lo rivolgiamo a Fano bisogna fare anche iniziative forti, al di là delle chiacchiere che tanti magari rischierebbero di fare. Ho chiesto innanzitutto al Ministro di invitare tutti i direttori dei musei più importanti del Paese a interrompere i rapporti col Ghetto Museum finché non restituisce l'atleta di Fano alla nostra città. Oggi ho inviato una lettera al Ministro chiedendogli anche un incontro e dobbiamo essere tutti uniti. L'altro messaggio che voglio rivolgere lo rivolgo alla città, lo rivolgo alla politica lanciando un messaggio forte. Questa è una questione che riguarda tutta la città, non riguarda soltanto una parte. Quindi è l'invito a lavorare uniti insieme all'amministrazione per far sì che l'atleta Lisippo torni come giusto che sia nella nostra città, come la sentenza ha definito anche con le motivazioni che abbiamo letto. Quindi dobbiamo essere tutti uniti e una volta tanto dimostriamo di voler bene alla città. Dividiamoci su tutti ma non su questa battaglia che dobbiamo fare tutti insieme. Presto uscirà anche un manifesto che chiederò di sottoscrivere, ovviamente non soltanto a livello cittadino ma a livello nazionale.